Ciao ragazze, oggi nuovo video Avon e come potete capire video spacchettamento di campagna 13 Sì, questa è un po' pochina, un po' piccolina, ma ci accontentiamo, dai dai Non può essere sempre notale, sto per fare enormi danni, sì l'ho fatto, ok Ce la posso fare, io lo so Allora, sciogli i nodi spray della natural, salbicocca e burro di karité Poi cosa abbiamo, signor Sciari? Bagnoschiuma sensitive da 500 ml Bagnoschiuma orchidea nera e raspberry Dovrebbe essere lampone, credo Un altro, identico Poi cosa abbiamo? Il fondotinta Ideal Flowels, quello compatto, 3 in 1 Il medium beige Poi abbiamo l'Avonglow Browsing Powder Medium Riviera Una uguale Poi abbiamo il profumo Premier Luxe Gold Blush Wow, oh yeah Un altro splash all'innoide alla bicocca E burro di karité Una cipra del color trend, il colore medium Io ho fatto una grande scoperta Anzi, vi dirò nel video di top No, nel video che faccio in collaborazione con Teresa Ve lo dirò anche Ce n'è per tutti i mesi Comunque ho scoperto che la cipria, questa qua nuova, il colore traslucente è quella trasparente Ho fatto questa fantastica scoperta dopo i mille milioni di anni Quindi sono un genio Comunque ve ne parlerò molto del perché e come E ho scoperto Sprite durante per i piedi all'arancia e menta Grumi e menta Porca puzzola Allora, pantaloni in anteprima Questi dovrebbero essere quelli neri Jeans Me ne dovrebbero mancare un altro paio Maledetti loro Ecco, vedrò Se li provo poi vi dirò Un'altra cipra del color trend, il colore sempre medium La fascia per i capelli con la traccia Il pennello viso Un Super Shock, la matita doppia, il colore quello Monshine Uno smalto Ice Purple, il colore metallico Gli effetti metallico Questo che cosa è? Una Glimmer Stick Ah, la matita nera, classica Uno spray per i piedi Oddio Che cacchio di cosa è? A Lime Ottimo Un pediluvio per i piedi Alla noce di macadamia Mi sembra? Sì Mamma mia che memoria ragazzi Uno spray per i piedi Alla giuglieggia Campioncini Che fanno sempre no comodo di più Un fondotinta calmi in fake effect Il colore run beige Un'altra cipra della color trend Sempre colore medium Mi guarda Poi un campioncino volante da solo Un'altra glimmer stick Il colore dovrebbe essere sempre quella nera Un gloss dell'extra lasting No 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 che sto dicendo Questo è il correttore Il correttore colore file E due mascara della super shock Sì E poi Ho usato il campioncino volante Chissà che roba Ve lo leggo Perché dalla non c'è Ah è quel profumo nuovo Amonlac E poi finiamo Maledetti loro Devo leggere la fattura Perché non c'è l'altro jeans Ah i maledetti voi Ok Apriamo 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 Oh Questa è la collana Zoe Quindi mancano pure altre cose Fantastico E niente ragazze Questo era tutto E ci vediamo al prossimo video Uno spaccamettamento molto lampo 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 Un bacio Ciao